allora vediamo ora come si costruiscono questi modellini allora per costruire l'atomo di idrogeno è sufficiente incastrare la biglia dentro la molla a un'estremità ci vuole una molla corta quindi biglia e molla corta ecco incastrato ecco fatto il nostro modellino dell'atomo di idrogeno per fare invece l'atomo di ossigeno prendiamo una molla più lunga e a metà incastriamo la biglia rossa ecco fatto l'atomo di ossigeno se per caso si staccasse la molla non vi niente paura rimettiamo dentro la biglia al suo posto vediamo ora l'atomo di azoto a tre braccia e si costruisce a partire dalla biglia azzurra una molla corta e una molla lunga inseriamo la molla corta a una estremità e la molla lunga in mezzo cosicché abbiamo circa tre braccia circa abbiamo tre braccia e vediamo infine l'atomo di carbonio che ha quattro braccia la biglia nera per costruirlo ci servono due molle lunghe a metà ne apriamo una la inseriamo da una parte così le escono di là o una la inseriamo da quest'altra ed ecco quindi le quattro braccia e quattro gangi con cui carbonio si lega agli altri atomi si possono costruire molecole sempre più complicate per esempio adesso costruisco il benzene servono sei atomi di carbonio sei atomi di idrogeno in teoria è ancora un po più complicato di così perché questi legami si sciolgono si uniscono dall'altra parte e continuano a cambiare da una configurazione all'altra le molecole quindi non sono statiche ma oltre a vibrare e muoversi gli elettroni anche scorrono cambiano formano legami diversi possiamo inoltre usare questo modello per mimare le reazioni chimiche quindi per esempio possiamo vedere l'aceto e il bicarbonato l'aceto è una soluzione di acqua e acido acetico quindi si trovano tantissime queste molecole e tante di queste molecole tutte mescolate l'acqua e l'acido acetico h2o ch3 co o h l'acido la soluzione poi anche questi ogni tanto si staccano o così o anche così e andrà a reagire con il bicarbonato ovvero l'idrogeno carbonato di sodio na che è il sodio h co3 il sodio abbiamo usato una biglia blu scuro volendo potremmo anche usare una biglia color alluminio se la rivestiamo con alluminio essendo il sodio un metallo a seconda del codice colore a seconda del codice colore che usiamo c'è chi la usa per il sodio un violetto il blu il color metallo e cosa succede in questa reazione allora l'acido acetico è quello qui il sodio va appunto a combinarsi al posto dell'idrogeno insieme con l'acido acetico e forma l'acetato di sodio mentre il bicarbonato quello che resta si forma acqua e co2 tutte le bollicine la co2 che esce ecco si è staccata dal bicarbonato forma le bolle rimane acqua e acetato di sodio e allora si può sono fare altre reazioni come anche la fotosintesi clorofiliana nella quale acqua e co2 vengono trasformati dalla pianta per produrre gli zuccheri e l'ossigeno quindi gli zuccheri e poi anche la cellulosa gli amidi e quindi tutte le varie sostanze hanno delle molecole e noi con queste attività si possono costruire molecole per avvicinarsi a questo mondo degli atomi delle molecole le visualizzazioni tipiche sono il modello a pallina e bastoncino che abbiamo visto che viene ripreso in questi modelli che sono a pallina e molla invece che pallina e bastoncino dove la molla appunto rappresenta gli elettroni che formano i legami ci sono anche visualizzazioni al computer e le diverse molecole vengono visualizzate per esempio col modello pallina e bastoncino però ci sono anche altri modelli per esempio abbiamo visto all'inizio che negli anni 60 dell'ottocento il chimico Lohschmidt aveva elaborato un modello con dei cerchi come le grandi bolle di sapone che rappresentavano un po' le diverse molecole e anche questo modello poi è stato ripreso nel modello che chiamiamo Space Fill in inglese o a calotta in cui non vengono rappresentate i nuclei, diciamo i noccioli e le linee che li congiungono bensì viene rappresentando un po' tutto lo spazio occupato dalla molecola quindi con delle grandi sfere che indicano un po' tutto lo spazio occupato dall'elettrone dagli elettroni quindi dagli atomi intorno ecco quindi abbiamo così completato questa necessariamente schematica cavalcata dai modellini molecolari fino alla chimica del Novecento oggi è possibile con diverse tecniche dalla prima con la diffrazione ai raggi X e poi adesso con l'NMR e gli spettrometri di massa anche fare dei veri e propri ritratti delle molecole e anche delle proteine e ricavare proprio le posizioni di tutti questi atomi nello spazio quindi effettivamente questi piccoli modellini sono degli efficaci ritratti delle molecole di cui sono fatte tutte le cose intorno a noi è poi più complicato di così i chimici del tempo già se ne erano accorti perché per esempio l'azoto ha certe volte un potere combinatorio di 3 ma in altri composti ha un potere combinatorio di 5 per cui dovremmo assegnarli invece che 3 braccia 5 quindi era difficile dare anche un'interpretazione microscopica ma come sono fatti poi questi atomi che noi al momento adesso rappresentiamo in questo modo cosa rappresenta la biglia cosa le molle che un colpo sono 2 un colpo sono 5 adesso si sono annodate quando succede che le molle si incastrano ecco bisogna con pazienza cercare di svitarle e non di sformarle quindi io per esserla svito non non Grazie a tutti